Michele Zononi, nuovo presidente di Leffe Giovani, un'elezione fresca. Ricordiamo un po' l'attività del vostro gruppo, quanto resterà in carica e che cosa farete nel corso di quest'anno? A febbraio sono stato eletto presidente Leffe Giovani e resterò in carica per due anni, insieme ad altri ragazzi che mi daranno una mano che è il consiglio direttivo, che sono Gianluca Mistri, Fabio Brignoli, Sheila Franchina, Clara Pirovano, Francesca Zambaiti e Gianpietro Mosconi. Siamo abituati, ormai la vostra associazione durante tutto il corso dell'anno propone diverse manifestazioni, quali saranno appunto per il 2013? La prima che viene è la marcia del Coertino, una marcia non competitiva di 6, 12, 17, 21 km. Poi avremo una manifestazione sportiva, una Virtus Cup, una 16 ore di calcio a 5. Il nostro evento Clu dell'anno che è l'Eppe Estate che quest'anno si svolgerà dall'11 al 14 luglio. Il nostro immancabile appuntamento di Halloween che si tiene il 31 ottobre. E aspettando il Natale con leppe giovani che quest'anno si svolgerà l'8 dicembre. C'è bisogno di coinvolgimento di altri giovani, dobbiamo sensibilizzare un po' altri leffesi o siete un gruppo già abbastanza collaudato? Il gruppo di lavoro è composto da circa 20 persone, però siamo sempre alla ricerca di nuovo personale, di nuove idee e soprattutto per poter portare avanti le attività dell'associazione. Ovviamente ritorna anche il tesseramento, spieghiamo come funziona e a chi è rivolto. Il tesseramento è aperto tutto l'anno, ci sono due tipi di tessere, la tessera junior che arriva fino a 14 anni e che costa 5 euro. Dopo i 14 anni c'è la tessera senior che costa 8 euro. Queste due tessere danno diritto, oltre ad essere parte attiva di leffe giovani, anche con delle convenzioni con dei commercianti, leffe di tutta la Val Seriana.